Ciao a tutti, sono Alice Orlandi da Brembio e vi porto oggi nella mia casa in Finlandia ad Helsinki. Abito da sola in una casa di 75 metri quadri, è veramente grande ma avrei dovuto avere delle coinquiline ma a causa del virus sono rimasta da sola. Per prima cosa qui c'è il salotto, molto bello dove mi posiziono per le mie sessioni di smart working in questo periodo di lockdown e questa è la mia stanza che è una postazione alternativa per lo smart working ma dove anche passo gran parte del mio tempo la sera a guardare serie tv Netflix. L'ultima stanza che è forse la mia stanza del cuore è la cucina di cui vado molto fiera del pavimento dove posso cucinare e tenermi compagnia con qualcosa di buono. Dopo una mattinata passata a lavorare alla presentazione powerpoint per la discussione della mia tesi a mandare email agli artisti per l'apertura delle nuove mostre della galleria in cui lavoro posso uscire a fare una passeggiata perché strano ma vero ad Helsinki ci sono 19 gradi e è meglio approfittarne.